1, 2, 3, 1 Radio Bruno TV al Festival di Sanremo Ben ritrovati qui su Radio Bruno TV Siamo in compagnia di Pier Davide Carone Buongiorno, buongiorno Buongiorno Pier Davide Allora ormai il Festival si sta per concludere Qual è il tuo bilancio? Ma il mio bilancio è che Sono tornato a svegliarmi presto la mattina Che era una buona abitudine che avevo perso dai tempi del liceo No vabbè, a parte gli scherzi Il bilancio è sicuramente positivo Ma come dico sempre Perché è proprio la mia massima di vita Il bello ha da venire Perché poi il cerchio si chiude Nel momento in cui è l'intero progetto A essere legittimato dal pubblico Ora siamo all'inizio Senti Pier Davide La tua canzone era già bella di suo Ma poi con questi duetti Sia quello della serata con l'ospite internazionale Sia quello che hai fatto con Grignani Si è trasformata ancora Quali sono state un po' le tue impressioni su questi duetti? Ma sono stati dei duetti importanti Anche per la mia forma mentis in qualche modo Perché mi sono dovuto confrontare Con delle realtà Che in maniera diversa Perché magari Matt Slanger Diciamo Più o meno giovane come me Ma in qualche modo Si sta iniziando ad affermare ora Quindi come me Però magari in maniera più internazionale Più ad ampio respiro Grignani è uno che Cioè lui può parlare È uno di quelli che può parlare Di milioni di copie vendute Poi In tutto questo C'era comunque una presenza fondamentale Come quella di Lucio Dalla Per cui Sto iniziando a confrontarmi Con quelli bravi Per cui Confronto che poi Già di per sé In questa canzone nasce Perché hai avuto Lucio Dalla Come direttore Che immagino sia stata Una bella esperienza per te Beh sì Ma perché Ripeto È stato Oltre che Un onore Ma quello è scontato No È stato un modo Di iniziarsi a confrontare Con quelli che La storia L'hanno già fatta Cioè già sono nella storia Sono nel mito Io che In qualche modo Sto iniziando adesso E sto cercando Di far sì che Appunto possa In qualche modo Raccontare Delle cose Come Hanno fatto loro E fanno E faranno Continueranno a fare È importante Poi avere un confronto Col mondo esterno Perché guardarsi poi Sempre allo specchio Credo che sia A un certo punto Deleterio Senti cosa ne pensi Della vittoria di Casillo Nei giovani Tu che sei giovane Anche tu Beh Va in qualche modo A Smentire ulteriormente Lo stereotipo Dell'assenza di Di talento Nei talent Ciao sono Pier Davide Carone Vorrei guardare con voi Il video di Don't Stop Me Now Dei Queen In collaborazione con Remida Comprooro Per trasformare il tuo vecchio oro In contanti Youbet.it Ci puoi scommettere Meta Tornitura e fresatura Per l'industria Bianco forno Arte pasticcera Per.it Per l'industria